E con il gol di Amadouche l'Arezzo Football Academy riesce a superare nella finalissima del diciannovesimo torneo Roberto Lorentini i rivali del Normoponte. Una partita intensa e combattuta e incerta fino alla fine dove il gol del centravanti Amaranto ha regalato il successo alla formazione aretina. Resta l'amaro in bocca invece a padroni di casa del Santa Firmina che dopo essere andati in vantaggio con Balsamo nella finale per il terzo quarto posto contro l'Arno Laterina si sono visti raggiungere e poi superare dai gialloblu trascinati dal proprio bomber Farsetti. È stata una giornata di festa presso l'impianto sportivo di Santa Firmina con i familiari di Roberto Lorentini, da mogli Arianna e figli Andrea e Stefano presenti in tribuna per assistere all'atto conclusivo di un torneo che non premia solo le migliori formazioni giovanissimi B della provincia di Arezzo. Gli organizzatori del Memorial infatti ogni anno vogliono tenere vivo con questa manifestazione il ricordo di Roberto Lorentini in medico aretino che non esitò la sera del 29 maggio 1985 a soccorrere alcuni feriti durante la finale di Coppa dei Campioni tra Liverpool e Juventus, un gesto di altruismo che costò la vita a giovane medico aretino. Al termine della finalissima sono state premiate le quattro finaliste, la squadra più disciplinata, la nuova associazione calcio foiano e i migliori giocatori del torneo che sono stati valutati da un'apposita commissione. A Matteo Gennaioli dell'Olmo Ponte è andato il premio come giocatore più disciplinato, a Lorenzo Acquisti del Santa Firmina il premio come giocatore più giovane, a Valerio Santini dell'Arezzo Football Academy il premio come miglior allenatore, a Tommaso Cristofoletti dell'Olmo Ponte quello di miglior portiere, a David Tavanti dell'Olmo Ponte quello di miglior difensore, a Matteo Calussi dell'Arezzo Football Academy quello di miglior centrocampista, ad Amadu dell'Arezzo Football Academy quello di miglior attaccante, capocannoniere del torneo Tommaso Rossi dell'Arno Laterina, mentre il premio come miglior giocatore in assoluto del torneo è andato a Luca Salvadori dell'Olmo Ponte.